Amici, preparatevi un caffettino, un tè caldo, una tisana, un succo di frutta, un bicchiere di vino, un cocktail, quello che volete, perché sto per farvi un piccolo spoilerino sui fatti miei, piccolo grande aggiornamento sulla mia esistenza. Ciao Sigilacherys, benvenuti ben tornati sul mio canale, io sono Sakuri, la vostra guida spirituale per tutto ciò che riguarda la Norvegia, la vita qui, come trovare lavoro, la burocrazia, piccole lezioni di lingua norvegese, qualcosina sulla cultura, sulla geografia, sul turismo, tutto quello che volete. Oggi però video leggermente diverso, ogni tanto sapete che mi piace aggiornarvi sugli affari miei, su come sta procedendo la mia vita qui in Norvegia, perché comunque mi fa piacere anche condividere queste informazioni con voi, e quindi come avete letto dal titolo, mi trasferisco di nuovo, veramente, giuro, non sto scherzando, è il sesto trasferimento da che sono arrivata in Norvegia nel 2016. Sesto in totale, contando anche il fatto che siamo arrivati in Norvegia, facciamo un recappino, allora nel 2016, aprile, sono arrivata in Norvegia con, all'epoca, mio ragazzo, che adesso è mio marito, e niente, quindi questo, diciamo, primo grande trasloco dall'Italia alla Norvegia, contiamo anche questo. Siamo stati due settimane in un Airbnb, perché non avevamo trovato una casa, un affitto a lungo termine, venendo dall'Italia, diciamo, cercandola dall'Italia, quindi abbiamo fatto, abbiamo optato per questa soluzione, quindi secondo mini trasferimento, sempre da questo Airbnb a Trondheim, in un'altra casa a Trondheim, in cui siamo rimasti per tre mesi. Verso agosto ci siamo trasferiti, sempre nella regione di Trondheim, quindi nel Trondheim, però lontani dalla città, circa due ore e mezzo, tre ore di auto, quindi quello lì è stato il nostro primo grande trasloco da Norvegia a Norvegia, diciamo, il terzo di questo processo di vita in Norvegia, quindi il terzo, lì siamo stati in una casa in affitto per un annetto e mezzo, mi sembra, poi abbiamo comprato casa, sempre lì nella zona, quindi ci siamo trasferiti a pochi chilometri di distanza, sono dieci, quindici forse, quindi quarto trasloco, ovviamente sempre portandoci dietro tutti i nostri scatoloni mobili che nel frattempo avevamo comprato, quindi quarto. A un certo punto, poi dopo tre anni, siamo venuti via da lì e abbiamo fatto il big trasloco in Norvegia, cambiando completamente zona, quindi siamo arrivati al quinto e questo qui è il sesto. Io giuro, giuro, sono in imbarazzo per me, cioè non riesco a stare ferma, non riesco a stare ferma quando io ogni volta che io annuncio un nuovo trasferimento alla mia famiglia e ai miei amici mi dicono, scusa ma, cioè tipo, non ti eri appena trasferita a noi, appena traslocato? Io, sì, quindi... Io però purtroppo ho veramente questa difficoltà a rimanere nello stesso posto per più di sei mesi, quando lo dico la gente non mi crede più, veramente dopo pochi mesi che vivo nello stesso posto, nella stessa casa, io mi stufo, mi stufo, non riesco, cioè io non riesco proprio a tollerare la routine, cioè... Non lo so, è che, boh, forse sono un po' no manieca dell'organizzazione, mi piace programmare cose, però eventi grossi, cioè non mi accontento di programmare una gita fuori porta, in giornata, io devo avere proprio quel processo di organizzazione... Ma sta svenendo il mio cellulare? Sì, stava andando sempre più giù, scusate, è che vi sto registrando questo video seduta nella mia prigione, seduta sul pavimento del mio ufficetto, siete appoggiati su una sedia, sulla ring light, che non lo so, sta probabilmente tirando gli ultimi, non riesce a... Il supporto è un po' così, e quindi ho visto a un certo punto che il cellulare stava facendo così. Vabbè, stavo dicendo? Niente, dicevo, io ho sempre bisogno di spostarmi, ho sempre bisogno di novità nella mia vita, altrimenti mi stufo, altrimenti vado in ansia, ho sempre bisogno di avere qualcosa di giga enorme da organizzare e da pianificare, e l'unica cosa che mi viene in mente di fare è quella di continuare a traslocare. Tra l'altro, opinione impopolare. Io so che alla gente non piace trasferirsi, perché, insomma, a livello organizzativo occupa tempo, energie, bisogna impacchettare tutto, pulire, sia sempre un sacco di roba in più in casa che non serve, quindi impacchetta anche robe che sai che sono inutili, però non le vuoi buttare via, allora portiamocene dietro, allora impacchetta, spacchetta, pulisci di qui, pulisci di là, cerca un nuovo appartamento. Un disastro, un casino, però a me piace, a me piace, raga, se dovete organizzare un trasloco, io ci sono, io sono qui per voi, fatemelo fare, fatemelo fare, perché ormai, a parte il fatto che ho un'esperienza, cioè, hai voglia, io organizzo un trasloco in tre giorni, ho fatto tutto, ma anche meno, e poi mi piace proprio, mi piace, quindi c'è un'opinione impopolare, per me traslocare, trasferirsi è bellissimo, cioè, una delle mie attività preferite per il tempo libero. E nulla, cosa posso dirvi? Vi dico poco ancora, perché in realtà so poco anch'io, è tutto un processo un po' in divenire, per ora sappiamo solo, per certo che sì, ci trasferiremo, è ufficiale, però, però non abbiamo ancora trovato un appartamento, e quindi dobbiamo darci da fare nelle prossime settimane, perché manca veramente poco, quindi dovremmo cercare una nuova casa, ne abbiamo adocchiata qualcuna, adesso stiamo contattando i proprietari, probabilmente non riusciremo ad andare a vederle di persona, perché vabbè, siamo molto occupati col lavoro, poi non è un trasferimento, diciamo, su lunga distanza, tanto quanto l'ultimo che abbiamo fatto, però ci spostiamo di un po', e non possiamo andare avanti e indietro, a vedere appartamenti oggettivamente, quindi ci fidiamo di quello che vediamo online, sperando che le foto siano, insomma, corrispondenti abbastanza alla realtà, e questa è una cosa che mi piace un po' meno, perché appunto, essendo una maniaca dall'organizzazione, non avere controllo su questa cosa, mi lascia un po' così, però c'è anche quel brivido, quell'adrenalina di, oh mio Dio, forse finisco a vivere prestato, no, in realtà questo mi agita abbastanza, devo dire la verità, però sono talmente contenta di spostarmi un'altra volta, che, cioè, passa tutto in secondo piano. Lavoro, come farò col lavoro, e mollo il lavoro che ho qui, come ho fatto un'altra volta, e me ne cerco un altro, nel nuovo posto, quello non mi preoccupa più di tanto, in realtà, perché comunque, continuerò con la mia scuola online, quindi continuo a lavorare sui miei corsi interattivi online, di norvegese per italiani, continuerò a fare lezioni online, su Teams, diciamo faccia a faccia, ma online appunto con me, di norvegese, o le altre lingue che insegno, dico norvegese perché prevalentemente faccio lezioni di norvegese, quindi quello continuerò a farlo, lavorando da casa, e però, vorrei anche trovarmi un lavoretto da dipendente, quindi vabbè, diciamo, il lavoro non mi preoccupa, al momento in cui mi preoccupa l'appartamento, però sul lavoro sono abbastanza tranquilla, insomma, ci metterò quello che ci metterò a, a trovarne un altro, però, insomma, infatti non è che resto a piedi, ok? Che altro? Che altro dirvi? Abbiamo un po' di cose da portarci dietro, perché effettivamente abbiamo più di quello che ci serve, però, molte cose, col fatto che ci siamo trasferiti pochi mesi fa, cioè siamo qui da 8-9 mesi, molte cose le ho lasciate ancora impacchettate, cose che non abbiamo dovuto usare in questi mesi, sono impacchettate in cantina, quindi ho, diciamo, meno lavoro da fare da questo punto di vista. Manca poco, però, per come sono organizzata, per come sono maniacale, sicuramente ciò facciamo. Non vi posso dire di più, perché come dicevo so poco anche io, e tante cose sono ancora da stabilire, da definire, quindi non vorrei dirvi qualcosa che poi in realtà non va in porto, quindi preferisco rimanere un po' fumosa, un po' sul vago in questo video, poi farvi dei video update, in cui faccio vedere magari la nuova casa, faccio l'home tour del nuovo appartamento, vi faccio sicuramente anche un vlog del giorno del trasloco, perché sarà interessante, secondo me, perché conoscendomi succederà qualche, almeno mini disastro, perché per quanto io mi organizzi in modo maniacale, l'universo di solito non mi segue troppo nella mia pianificazione, quindi riesci sempre a capitare il disastro, l'altra volta vi lascio linkato qui in alto il video dell'ultimo trasloco che abbiamo fatto, in cui il nostro furgone ha simpaticamente deciso a un certo punto di rischiare di trasformarsi in una palla di fuoco lanciata a 150 km orari giù da una montagna, ok, siamo in quest'ordine di disastro, ok, questa proporzione, e poi vediamo che succederà stavolta. In teoria, in teoria, ma incrocio le dita tantissimo, cioè incrocio quante più possibile, in teoria non dovrebbe essere un trasloco così complesso come l'altra volta, perché non è così a lunga distanza, diciamo, però non mi fido, cioè manca qualche settimana ma io lo percepisco già che la fregatura è dietro l'angolo. Questo è quanto, non ho molto di più da dire, però volevo condividere con voi questa piccola grande news intanto che è una novità anche per me e poi appunto aggiornarvi man mano, quindi non so cosa posso dirvi. Vi ho raccontato i fatti miei per qualche minuto, spero di avervi fatto compagnia. Scusate un po' il nonsense della struttura di questo video, ma sono così, così, lo sto facendo proprio velocemente, sono tornata dal lavoro, seduta sul pavimento, come dicevo così, un po' scompigliata, con felpina da casa, perché fuori sta venendo tipo giù il finimondo, penso che sia arrivando una bufera di qualcosa, e comincia a far freddino. e nulla, e come dicevo, sono imbarazzata, sono imbarazzata per me, perché mi rendo conto che la gente non capisce perché io non riesco a stare fiume in posto. E ogni tanto, infatti, cioè, capita che la gente pensi o mi chieda, ma ti fa veramente così schifo il posto in cui io, meglio, ti fanno così schifo tutti i posti in cui vivi che te ne devi andare dopo pochi mesi? No, no, in realtà no, perché qui non è che mi stia neanche trovando male, però io ho questo bisogno di spostarmi, e quindi, boh, fosse anche un trasloco di un chilometro, io ogni tanto devo sentire di stare cambiando aria. Smetto di rubarvi tempo, che è già stato tutto abbastanza caotico in questo video, e devo andare a fare lezioni, in realtà. Grazie per aver visto questo video qui, se volete potete, non lo so, scrivermi nei commenti qui sotto quanto sono pazza da uno a cento milioni, o scrivetemi quello che volete, vi leggo sempre con piacere, un bacio, alla prossima, bye bye, e vi aggiorno su come andrà nelle prossime settimane.